Maestro Fotino, contornato dai suoi allievi che oggi hanno ottenuto un risultato non importante, qualcosa di più, perché quasi tutti i suoi atleti sono andati a medaglia e si sono qualificati. Sì, diciamo che siamo freschi freschi di gara, perché siamo ritornati in questo momento da Marano di Napoli, dove c'era la fase regionale di qualificazione del campionato italiano Juniores. Quindi la cosa importante della fase regionale è quella di qualificare i ragazzi per la finale, perché la Campania è una delle prime regioni d'Italia, se non la prima, e qualificarsi non è scontato. Noi abbiamo presentato in gara 18 ragazzi, tra questi 18 ragazzi ne abbiamo qualificati veramente 13, più una persona che era già qualificata, Campania della Sala, che era già qualificata per le finali, in quanto vincente dell'anno precedente. Quindi diciamo, per giustizia, 7 maschietti e 7 femminucce. C'è questo anche verso chi pensa che il karate non sia uno sport femminile, invece vedete che i numeri sono pari, 7 e 7. Maestro, lei ci parlava dell'importanza di qualificarsi in una regione come la Campania, in cui non è sempre scontato che 14 atleti della tua palestra si sono qualificati per la prossima fase. Sì, non è assolutamente scontato. Tenga presente che noi, in quest'anno, l'ultimo anno finito, nell'anno 2018, ci siamo qualificati come associazione al quarto posto d'Italia, che è un... non so se l'Inter, la Juventus, chi è che sta al quarto posto, ma insomma per avere un'idea nello sport del karate è un appiazzamento molto significativo. ha solo due punti della terza, che è della Campania. Adesso, questa volta, prima e seconda sono delle società del nord, però molto spesso la prima e la seconda è una società della Campania. Questo significa che già superare le fasi regionali è veramente una grande barriera e questo pone anche, voglio dire, una speranza positiva per le finali perché si vede che i ragazzi che hanno superato sono sicuramente bravi.